Guardi, noi come Comuni abbiamo la vulnerabilità sismica già verificata su tutti gli immobili pubblici, compresi le scuole. La vulnerabilità sismica, lo dico una volta per sempre, una volta in più, non vuol dire che le scuole debbano essere chiuse, almeno che non ci sia una dichiarazione di inagibilità di quelle scuole. La vulnerabilità sismica è il risultato della risposta di quella struttura ad un eventuale sisma. Su tutte le scuole abbiamo avviato progetti che vanno dal miglioramento all'adeguamento sismico e anche persino all'adeguamento alle norme di antincendio, che nella maggior parte, direi in tutte le scuole, mancavano fino a quando noi, sette anni fa, non abbiamo iniziato ad adeguarle tutte. Ne abbiamo adeguate, almeno un 50% di scuole sono state ad oggi interessate da lavori di miglioramento sismico o di miglioramento del sistema antincendio, dobbiamo continuare su questa strada. Lo stiamo facendo con fondi propri, ma abbiamo bisogno, lo dico oggi che il Presidente del Consiglio è in Abruzzo, abbiamo bisogno non delle chiacchiere che spesso fa la Regione o delle promesse che ci fa il Governo nazionale, ma di soldi all'interno delle casse, non del mio comune, ma di tutti i comuni italiani, se vogliamo che le scuole vengano adeguate.